Ciao Massimo, sono Salvatore, vogliamo dare un invito a tutti i tuoi fans a vedere questi magnifici film in uscita? Matrimonio al Sud, al cinema, andate a vederlo che vengo qui. E ci sta lui soprattutto, è un cast stupendo, diciamolo. Saludiamo tutti quanti? Ciao ragazzi, tantissimo. Ciao, grande Massimo.